Sono entrati dal tetto alle prime ore dell'alba rubando decine di biciclette di varie marche, modelli da corsa e mountain bike. Nel mirino dei ladri questa volta è finito il negozio Bike & Sport di Castello di Godego dal quale, oltre alle bici, sono spariti anche diversi accessori. La montare del colpo è quantificabile in alcune decine di migliaia di euro, indagano i carabinieri.